Salve a tutti ragazzi, questo è un video vlog veloce solo per comunicarvi cosa sta succedendo qua in Lombardia visto che io sto vivendo qua in Lombardia e quello che diciamo sono i provvedimenti presi dal governo che trovo giusto perché comunque veramente qua sta diventando una situazione critica perché comunque non si riesce a fermare e a contenere diciamo i contagi che continuano a aumentare quindi sono stati presi dal governo dei provvedimenti importanti e abbastanza forti praticamente all'interno della regione Lombardia e non solo perché comunque anche nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro, Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano, Cusio, Ossola, Vercelli, Padova Treviso e Venezia da domani bisogna avere questa autocertificazione per circolare nel senso che non si può andare in giro senza un motivo concreto quindi con questa autocertificazione dichiariamo sotto la nostra responsabilità che ci stiamo muovendo per un motivo serio, i motivi seri sono ovviamente per lavoro, per salute quindi motivi importanti a cui non si può rinunciare a meno che il governo non decida che non si può neanche andare a lavorare quindi chiuda le aziende ma se no fino a quel momento possiamo circolare per questi motivi ovviamente non si può circolare per andare a fare una passeggiata non si può circolare per andare a bere il caffè non si può circolare per andare a fare la spesa al di fuori del proprio paese nel senso che all'interno del proprio paese ci si può muovere ma per uscire dal paese bisogna avere queste autocertificazioni che dichiarano il nostro spostamento il perché e il per come dobbiamo andare in un'altra località che sia anche due paesi più vicino o quello che le forze dell'ordine controlleranno quindi questo video vlog era solo per diciamo mettervi al corrente della situazione che c'è qua e della situazione che sto vivendo anch'io perché ovviamente vivo qua e che quindi andrà a limitare un po' quello che saranno i prossimi video dal punto di vista dei voli dei droni in location interessanti nel senso che farò i video qua nella mia stanza farò il video qua nei campi qua vicino dove vado a fare le prove dei droni quando le devo testare o via dicendo ma non potrò andare sicuramente a far volare in drone in posti belli perché quello è un motivo futile quindi non è un motivo che rientra sicuramente tra i motivi importanti per muoversi quindi essendo d'accordo con questa decisione presa dal governo trovo veramente inutile a muovermi per motivi diciamo tra virgolette inutili quindi caricherò qualche video di quelli che ho ancora da caricare di location belle dove sono stato ma per un po' purtroppo non ci potrò andare quindi ragazzi questo era solo un video per mettervi al corrente di quello che sta succedendo perché tanti di voi vivono magari in altre regioni quindi non hanno per adesso di questi problemi spero anche in futuro non li abbiano mai spero che veramente venga risolto tutto senza che si allarghi ancora di più questa epidemia quindi ragazzi sperando che si risolva tutto e torni tutto alla normalità il più presto possibile ci vediamo qua per i miei soliti video qua su un nerd e mezzo continuate comunque a seguirmi ciao